Un lungo e caloroso applauso ha accolto il Presidente della Repubblica al suo ingresso nell'Auditorium Manzoni di Bologna. Napolitano, amante della musica, è arrivato sotto le due torri in forma privata, proprio per ascoltare il concerto diretto dall'amico Abbado. Ogni concerto di Claudio Abbado e dell'orchestra Mozart è un evento, ma la presenza di Napolitano ha trasformato la serata in una doppia festa di compleanno in musica. Abbado ne farà 80 fra due settimane, Napolitano 88, pochi giorni dopo.